Sono fan della Croce Rossa. Per merito suo, mia figlia è stata ben accudita quando ero costretta a letto. Ogni anno la Croce Rossa si prende cura per centomila ore di bambini i cui genitori sono sovraffaticati o ammalati. Diventa subito fan. Per poter aiutare abbiamo bisogno del tuo sostegno. Grazie di cuore. Croce Rossa Svizzera. Per un mondo più umano.